La Fimbe Cisle ha organizzato per lunedì 11 marzo un'assemblea pubblica al Circolo Fanin di Filine ed incentrata sulla Beccherte. Alla riunione convocata alle 9.30, alla quale sono invitati a partecipare iscritti e simpatizzanti, sarà decisa la linea d'entraprendere in vista dell'incontro al Mise del 28 marzo prossimo. Intanto il segretario regionale Fimbe Cisle Alessandro Beccastrini a nostri microfoni spiega quali sono le perplessità, ma anche quali possono essere le prospettive per lo stabilimento filinese. L'assemblea del lunedì prossimo l'avevamo già preparata circa una settimana fa e quindi semplicemente dovremo incontrare i nostri iscritti per preparare l'incontro del 28 al Ministero dello Sviluppo Economico che non è una novità, nel senso che noi abbiamo sottoscritto nero su bianco un accordo il 2 ottobre dell'anno scorso che prevedeva incontri trimestrali e quindi noi sapevamo già che entro il fine marzo c'era soltanto da conoscere la data e l'ora ma che entro il fine marzo il governo ci avrebbe chiamato e così è stato. Noi siamo assolutamente fiduciosi perché quella fabbrica ha una storia importantissima, ha un know-how dei lavoratori molto molto sviluppato e quindi siamo fiduciosi che sia confermato l'interesse di tantissime aziende come è stato fatto nei mesi scorsi. È ovvio che il tempo passa, ci preoccupa soprattutto il fatto che poi manchi tempo per semplicemente rifare le nuove IAL dell'azienda e quindi in qualche maniera portare nuove macchinari che quindi tra lo stacco della massa integrazione e quella della ripresa del lavoro non debba intercorrere un tempo biblico. Questa è la preoccupazione. Preoccupo il fatto che ancora non sappiamo esattamente quando i lavoratori riscuoteranno il primo mese di massa integrazione e queste sono le cose che il 28 di marzo andiamo a farci spiegare al Ministero dello Sviluppo economico come anche insieme quello che fino ad oggi Immise ha fatto per la reindustrializzazione. Comprendo esattamente la preoccupazione dei lavoratori, delle famiglie perché in questo momento rendiamoci conto che i lavoratori sono a casa, ancora non hanno visto un centesimo dalla parte della massa integrazione e soprattutto non abbiamo risposte certe anche se ovviamente i rapporti informali sia con il governo sia con l'azienda continuano, non si sono mai interrotti ma non abbiamo risposte certe e una soluzione da proporre. Quindi capisco la preoccupazione. C'è da dire una cosa in questa vicenda. Noi andiamo in questo paese quando arriva vicino alle elezioni amministrative, politiche, europee, questo paese tende a fibrillare purtroppo. Ecco noi non bisogna con questa avvertenza ma in generale farsi trascinare nel lagone politico delle discussioni eccetera eccetera. Noi bisogna esattamente stare a quello che abbiamo firmato il 2 ottobre dell'anno scorso. Grazie. Grazie. Grazie.